carissimi fratelli e sorelle amici cari la pace del signore sia con tutti quanti voi continuiamo a leggere nel libro di david platt seguimi e continuiamo a parlare della volontà di dio per la vita di ogni suo discepolo abbiamo visto la volta scorsa come la volontà di dio in generale quella che l'evangelo sia annunziato a tutti gli uomini affinché tutti vengono a conoscenza della grazia e se l'accettano possono essere salvati e scrive l'autore forse qualcuno potrà pensare in corso che io stia esemplificando troppo la volontà di dio la volontà di dio non si riduce dirà qualcuno al semplice fatto di predicare il vangelo a tutte le genti e fare discepoli in tutte le nazioni in un certo senso risponde l'autore la risposta è chiaramente sì la volontà di dio non si riduce a semplice fatto che le persone vadano al cristo al tempo stesso però ti sei mai chiesto come mai il signore abbia dato il suo spirito a quanti hanno creduto in lui abbiamo visto come da seguaci di cristo quali noi siamo dio congiunge la nostra vita con la vita di gesù ponendo dentro di noi lo spirito stesso di cristo qual è dunque lo scopo della presenza vivente di gesù dentro di noi il nuovo testamento risponde in molti modi a questa domanda lo spirito santo dimora nei seguaci di cristo per confortarli e convincerli per fare loro dei doni per offrire loro la guida lo spirito santo è l'aiuto il consolatore dei cristiani che apre le nostre menti alla comprensione della parola di dio e spinge i nostri cuori a offrire a dio l'adorazione tra tutte queste cose però uno dei grandi scopi dello spirito sembra particolarmente chiaro fin dal momento in cui riempie per la prima volta i seguaci di cristo quando gesù promise di mandare il suo spirito ai suoi discepoli disse riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in gerusalemme in tutta la giudea e samaria e fino all'estremità della terra gesù aveva già detto loro di fare discepoli di predicare nel suo nome il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le nazioni in quanto essi erano testimoni di queste cose la sua volontà per la loro vita era che testimoniassero e lui avrebbe mandato il suo spirito per renderli capaci di seguire adempiere la sua volontà che cosa significa dunque testimoniare molto semplicemente significa parlare rendere testimonianza su chi è gesù che cosa ha fatto e in che modo egli salva la pienezza dello spirito santo nel popolo di dio è dunque chiaramente connessa ad uno specifico obiettivo la proclamazione verbale della parola di dio e il sommo compimento della sua volontà questo è esattamente quello che vediamo realizzare da gesù nel nuovo testamento mediante la sua chiesa anche se nel primo capitolo del libro degli atti gesù ascende al cielo continua però ad operare gesù sparge con potenza e suo spirito sul suo popolo aggiunge ogni giorno alla chiesa coloro che sono sulla via della salvezza appare a paolo per salvarlo e chiamarla a divulgare il vangelo alle nazioni appare a pietro per indurlo ad accogliere i gentili nella chiesa e in atti 13 mentre adorato gesù per mezzo del suo spirito mette da parte paolo e barnaba per la diffusione del vangelo in nuove regioni gesù guida il suo popolo in momenti diversi e in città differenti e quando il vangelo è predicato gesù apre i cuori delle persone affinché credano tutte queste cose gesù le fa tramite lo spirito che egli ha sparso nei cuori dei suoi discepoli e in questi ultimi tempi della grazia di dio vogliamo con tutto il cuore pregare che egli continui a spandere il suo spirito affinché anche noi possiamo essere partecipi di questa missione possiamo nella potenza dello spirito santo annunziare l'evangelo testimoniare della grazia a tutte le genti affinché tutti vengono a conoscenza che c'è un dio un salvatore e che costui è cristo gesù vero dio vero uomo colui che duemila anni fa circa ha dato la sua vita sulla croce e dopo tre giorni è risuscitato e ora siede alla destra del padre per intercedere e continuare a spandere il suo spirito sul suo popolo che l'evangelo possa essere predicato attraverso di noi e che ognuno di noi possa realizzare la necessità di essere testimone in modo da adempiere la volontà di dio per la sua vita e per la salvezza delle anime che vivono ancora nelle tenebre dio ci accompagni cari e ci dia in questo nuovo giorno l'occasione di testimoniare di lui pace del signore l'occasione di testimoniare di lui pace del signore